Musica Volevo fare una domanda Sì, dove siamo? Eccola qua Più che domanda, volevo così delle delucidazioni o qualcosa che riguarda la reincarnazione Perché è stato sempre un mio pensiero, però poi l'ho sempre accantonato E quando ne ho parlato con qualcuno che poteva essere un sacerdote, peggio che mai Quindi ecco, volevo alcune... Allora, la reincarnazione non è tema di fede Uno ci può credere, non ci può credere Però è una logica divina Lo spirito eterno si incarna Nasce in un corpo Quando muore Il corpo, l'anima si distacca Lo spirito E può scegliere di rinascere Questo perché? Perché la nostra vita non è legata a un capriccio di Dio e a un mistero Non c'è nessun mistero La nostra vita è Dio ci ha creati affinché noi potessimo evolvere attraverso Evolverci attraverso la conoscenza Quindi per acquisire conoscenza che devi fare? Quando andiamo a scuola La prima elementare, la seconda, la terza Uno che si laura Con la prima elementare è già tutto a posto Devi fare un sacco di classi Quindi deve frequentare la scuola L'elementare, la media, superiore, l'università E poi si laurea La reincarnazione è lo stesso Devi fare varie vite per apprendere la conoscenza Una volta che hai preso conoscenza e ti sei realizzato Non hai più bisogno di reincarnarti Questo è il motivo per il quale Grazie a Dio perché senza reincarnazione Io lo vedrei un Dio ingiusto Perché ci sono cose che devi credere per fede Anche se non le capisci Ma ci sono cose che devi credere per fede Ma devono essere logiche Per me l'amore è logico Anche se è un mistero Ma è logico Il bene è logico Anche il male è logico Non lo dobbiamo praticare Però quando tu mi imponi una credenza dogmatica Però non mi dai spiegazioni Sulla mancanza d'amore di Dio Perché di questo si tratta Che fa nascere bambini storpi Ciechi, muti Campano due anni, tre anni O dieci anni, vent'anni In un inferno Non è che la colpa Diciamo è perché Loro hanno sbattuto la testa Sono nati così Quindi perché sono nati così? Tu che sei un Tu che tanto Tanto Ti fai bello Che sono il misericordioso Il giusto Il giusto L'infinito Amore Dov'è st'amore? Chiedo Ai suoi ministri Ah non lo so È un mistero Ma è un mistero Dio fa Dio commette degli sbagli Imperdonabili Ed è un mistero Ma lo deve spiegare La spiegazione Signore È logica Quel bambino Sta attraversando il processo Della sofferenza Che gli servirà tanto Ma nella prossima vita Magari sarà Un grande Giocatore di calcio Che avrà salute Che gli scoppia Da tutti i pori Ma quell'esperienza Era necessaria Affinché lui Apprendesse La Conoscenza Cioè Realizzasse il significato Della sofferenza Ma questa è più logica Per me Cioè io Se Dio mi dice questo Come Infatti mi ha detto Allora io dico Signore è vero Sei misericordioso Vero Sei un infinito amore È vero Siamo noi stolti Che pensiamo Perché lo spirito eterno Quando ci insegna La chiesa Fino al cinquecento Il concilio di Nicea Contemplava questo Poi l'ha abolito Per ragioni politiche Per dominare le anime Con l'inquisizione Con Eccetera Quindi la reincarnazione È una cosa logica Grazie a tutti